Dopo diverse settimane il contagio in Irpini attorna in doppia cifra. Dall'ultimo bollettino dell'Asra riferito alla giornata di venerdì si apprende che su 474 tamponi effettuati sono risultate positive 15 persone. Una di Ariano, una d'Avella, tre ad Avellino, una a Cesinali, a Mercogliano, Montoro, Mugnano del Cardinale, Prata Principato Ultra, Quadrelle, San Sossio, Baronia e due a Serino. Numeri che non si vedevano ormai da due mesi. Per fortuna nulla cambia dal punto di vista ospedaliero in quanto non si registra un incremento dei ricoveri. I positivi aumentano in quasi tutte le regioni italiane. La crescita dei casi è caratterizzata innanzitutto nella fascia 10, 19, 20, 29 anni. Sono i più giovani ad alimentare i nuovi casi con l'età media che si è abbassata a 25 anni. La variante Delta purtroppo corre troppo veloce perché come sottolinea Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione presso il Ministero della Salute, ha un picco di carica virale molto elevato. La buona notizia è che fino a questo momento gli ospedali non ne stanno risentendo, questo sicuramente grazie ai vaccini. Ma intanto i vaccinati tra gli over 50 e 60 risultano essere ancora pochi e sono queste sicuramente le fasce più a rischio in caso di contagio.